Ben ritrovati a tutti, carissimi ragazzi e ragazze in ascolto sulle provvenze di Radio Buon Consiglio e anche a tutti quanti gli ascoltatori, un santo pomeriggio e Ave Maria da parte di Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovane che è dedicata, come sapete, è da molto ormai che ci stiamo dedicando a un ciclo di catechesi sulla preghiera di cui siamo giunti alla ventottesima puntata stiamo affrontando da un po' di tempo a questa parte la preghiera litanica e abbiamo aperto il capitolo sulle litanie lauretane, le splendide litanie in onore della Madonna la volta scorsa ci siamo soffermati sul titolo di Vergine delle Vergini per spiegare anche il dogma della verginità perpetua della Madonna l'importanza della verginità nella vita della Madonna e l'importanza della verginità nella vita cristiana purtroppo ci siamo soffermati soltanto su questa litanieva che mi sembrava particolarmente importante sia per le eresie che continuano a circolare su questo punto soprattutto le blasfemie di chi attribuisce alla Madonna una vita matrimoniale regolare con San Giuseppe e sia anche per la forte crisi che c'è sul valore e l'importanza della verginità purtroppo anche talora in qualche figlio della Chiesa Cattolica quindi in qualche figlio di Dio, in qualche nostro fratello o sorella che dovrebbe portare alta la bandiera della verginità, della purezza e della castità oggi proseguiamo, vediamo se riusciamo a farne qualcuna in più io le leggo perché chi lo sa se ci riusciremo, non so dove poi mi fermerò ci sono la prima serie di litanie dopo le tre sante quindi Santa Maria, Santa De Gendrix e Santa Virgo Virginum abbiamo una serie di litanie che invocano la Madonna sotto il titolo di madre c'è Mater Christi poi c'è Mater Ecclesia di relativamente recente introduzione insomma non tanto recente perché qui quando parliamo di Paolo VI ci sembra ancora un Papa recente a me sembra ancora un Papa recente perché quando io sono nato ero piccolino mi ricordavo quando andava a messa che c'era ancora Paolo VI però purtroppo mi sto mecchiando pure io Paolo VI è morto 40 anni fa quindi diciamo per questo detto relativamente recente Mater Ecclesia poi c'è Mater Divine Grazie Mater Purissima Mater Castissima Mater Inviolata Mater Intemerata Mater Amabilis Mater Admirabilis Mater Boni Consili Mater Creatoris Mater Salvatoris quindi cominciamo a vederle uno alla volta Mater Christi è un titolo che fa riferimento appunto alla maternità di Maria nei confronti di Cristo del Messia ecco mentre Santa Dei Genetrix ecco madre di Dio no faceva riferimento a questa straordinaria diciamo eccellenza di Maria Santissima e al e alla condizione straordinaria ecco che la condizione di madre del figlio di Dio quindi di vera madre di Dio le dà qui Mater Christi invece fa riferimento un po' più come dire al rapporto materno personale diciamo così che ha legato Maria alla Santissima umanità ecco di di Gesù no quindi l'umanità di Gesù è tutta di Maria perché capite che la nascita di Gesù come abbiamo visto trattando del titolo appunto di Dei Genetrix è e di anche Virgo Virgine una miracolosa quindi è stato concepito proprio dello Spirito Santo quindi da un punto di vista genetico ecco poi non so se c'è qualche esperto che sa dare spiegazioni però sicuramente i promosomi umani della natura umana di Gesù vi era dato soltanto alla Madonna quindi c'era San Giovanni Bosco che per questo amava dire ella lo ha fatto tutto quindi questo significa anche fate attenzione figlioni miei cari ci sono i passi della Sacra Scrittura che dicono la Sapienza si è costruita una casa quindi Gesù ha voluto essere di Maria essere tutto di Maria quindi che significa questo che per esempio quelle parti dell'umanità vera di Gesù quelle parti che noi prendiamo dai nostri genitori che non sono soltanto l'aspetto fisico tutto questo punto di vista può darsi anche che Gesù potesse anche assomigliare un po' adesso non ho più pari di idea sto dicendo tanto per dire Dio mi perdoni ai Santi Gioacchino e Anna per esempio ai nonni è possibile che ci sia anche se certamente assomigliava molto a una Madonna a mio modestissimo avviso però invece noi prendiamo direttamente dai nostri genitori i tratti temperamentali gli aspetti psico emotivi ricordo quando ho fatto il ciclo di Catechesi chi sono io per poter amare ma anche quello sul mistero dell'uomo quindi sull'origine dell'uomo la nostra anima spirituale viene da Dio direttamente ecco ma quella che i classici chiamavano l'anima sensitiva quindi la sede dove si annida il nostro temperamento le nostre emozioni la nostra chiamiamola psico emotività quella viene tutta quanta dal dal patrimonio genetico dei nostri genitori d'accordo? non è creata direttamente da Dio quindi vedete che in questo titolo San Luigi Maria Monforte ci ha molto poi lavorato al fondamento della della devozione della schiavitù come uno la chiama totus tuus è proprio l'imitazione di Cristo cioè cosa ha fatto il verbo che poteva scegliere moltissimi modi insomma per realizzare l'incarnazione anche vera ma ha voluto come dire passare per Maria ed essere veramente il frutto del tuo seno Gesù ecco Cristo quindi Mater Christi proprio frutto 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 quindi non dobbiamo avere paura di andare dalla della Madonna e anche di andarci bene insomma perché Gesù lo ha fatto prima di noi e assomigliare alla Madonna ecco il fondamento della devozione alla Mariana l'imitazione di Maria eccetera il nostro sforzo ascetico il tentativo di diventare un pochino più simili alla Madonna è certamente benedetto da Dio perché prima di noi lo ha percorso Gesù ecco dopo Mater Christi abbiamo Mater Divine Grazie Madre della Grazia Divina titolo meraviglioso allora noi invochiamo Maria Maria come la piena di grazia così è stata salutata dall'Arcangelo Gabriele anche qui ricordo gli iscritti di San Luigi Monfort Dio ha radonato le acque e le ha chiamate mare ha radonato le grazie e le ha chiamate Maria quindi cosa vuol dire ecco che la grazia santificante di cui Maria è straricolma passa e arriva a noi attraverso quel canale voi capite che la funzione di madre l'essere madre è una funzione generativa quindi madre della divina grazia vuol dire che in qualche modo questa grazia la madonna la produce ecco capite bene in che senso qual vuol grazia e a te non ricorre cantava San Bernardo grazie a Dante Ligliere nel canto nel canto del paradiso sua disianza vuol volare sansali cioè la madonna è madre della divina grazia perché a chi a lei si rivolge quindi la produce in che senso il peccatore che ricorre a Maria avrà la grazia della conversione si andrà a confessare e ricupererà la grazia santificante l'uomo che cerca una grazia particolare la chiede a Maria e la troverà ecco in questo senso no molto bella quindi madre della grazia divina e di tutte le grazie divine prima di madre divina grazie ecco ho avuto una missione c'è madre ecclesie dicevo che l'ha voluta introdurre Paolo VI al termine del concilio Vaticano II voi sapete il concilio Vaticano II fece come opzione a mio avviso perfettamente condivisibile purché sia correttamente intesa qui entriamo in un campo insomma io ci ho fatto insomma gli studi per la tesi dottorale su questi argomenti quindi allora al concilio Vaticano II c'erano varie possibilità si poteva fare una costituzione sulla chiesa e una sulla madonna a parte ecco invece si è preferito concludere la costituzione sulla chiesa con il capitolo ottavo che è dedicato appunto alla beata vergine maria nel mistero di cristo e della chiesa quindi con una visione mariana e mariologica che concilia i due modi con cui nella tradizione si è guardato alla figura della madonna uno che la mette in stretta relazione a cristo e quindi in una condizione di privilegio e di come dire superiorità perdonatemi il termine rispetto a tutte le altre creature e appunto i titoli madre di cristo e scusate salta madre di dio salta vergine delle vergi assunta in cielo o anche immacolata sono tutti titoli che la relazionano strettamente a cristo se sarà fatto il quinto dogma della corredentrice mediatrice e avvocata ancora anche questo che è così e e quindi la fanno come dire apparire come creatura che sta su un altro pianeta e tanto su un altro pianeta ci sta ecco però al tempo stesso ella è come già Sant'Ambrogio spiegava tipo e modello della chiesa quindi di cui è anche a titolo del tutto speciale e particolare come vedremo membro quindi non è che con questa seconda formulazione si abbassa la madonna lungi da noi ma però ne si comprendono ulteriori grandezze cosa vuol dire che la madonna è tipo della chiesa è bellissima questa immagine qui e ripeto c'è un capitolo a parte della metesi dottorale quindi vi invito a credermi sulla fiducia a Roma presso l'università lateranense trovate le copie e potete andarla a vedere personalmente anche se è un po' complicata insomma e tipo della chiesa vuol dire la tipologia mariana a differenza di quella biblica è un po' particolare perché tipo della chiesa vuol dire in realtà prototipo della chiesa cioè prototipo perfetto cioè ciò che la chiesa è e deve essere Maria lo è in grado eccellentissimo cioè tutto ciò che la chiesa per volontà di Dio è chiamata ad essere ripeto è personificato in questa sola creatura al tempo stesso è modello della chiesa perché perché la santità di Maria è esemplare della santità di tutti i membri della chiesa capite perché non c'è virtù che la madonna non abbia e non abbia né un grado inimmaginabile di eroicità e di eroismo non c'è al tempo stesso è anche membro eccellentissimo della chiesa perché eccellentissimo ecco perché da un lato capite o uno è Cristo quindi è il salvatore o uno è chiesa cioè il salvato non dobbiamo avere paura di dire che la madonna è stata salvata perché l'ha detto lei stessa l'anima mia magnifica il signore il mio spirito esulta in Dio mio salvatore solo che come fu chiaro quando si fece il dogma dell'immacolata concezione bisogna vedere in che modo e in che senso fu salvata quindi non come noi nel senso che siamo tirati in piedi dalla caduta con cui nasciamo che era colpa d'origine ma la madonna è stata per un miracolo mantenuta in piedi senza permettere che cadesse quindi è stata preservata e in questo senso la sua condizione la eleva e necessariamente come membro sovraeccellente ed eminentissimo sono espressioni tecniche insomma usate nel capitolo ottavo della chiesa ecco quindi questo non autorizza ecco alcune banalizzazioni a cui si è assistito a volte anche qualche scritto teologico veramente per dire la verità negli ultimi 50 anni che riducono insomma Maria sciocchezze tipo una di noi ma attenzione la madonna nella sua umiltà veramente si 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 considerava e forse si pure avrebbe anche il coraggio di considerarsi adesso nostra sorella ecco cioè nel senso di membro che condivide con noi la natura umana e condivide con noi l'essere chiesa perché lei fa parte è la prima d'accordo è la prima discepola di Gesù come disse bene Giovanni Paolo II no? e la prima è la più perfetta discepola di di Gesù ecco però sempre in questa condizione straordinaria quindi in realtà ecco le guerre che si sono fatte tra i fautori della mariologia si chiama così cristotipica quella della mariologia ecclesiotipica queste parolacce o meglio questi paroloni servono a indicare le due dimensioni che vi ho accennato insomma e che l'ottavo capitolo della romanzia ci hanno voluto cercare di sintetizzare ecco unica unità perché in maniera molto molto cattolica ricordate sempre che il cattolicesimo è la è la fede dico fede perché qualcuno è allergico al termine religione va bene comunque come uno preferisce del et et dice che la Madonna dobbiamo concepire il riferimento a Cristo o alla Chiesa no la Madonna dobbiamo concepire il riferimento a Cristo e alla Chiesa la fede o le opere qualcuno diceva la fede e le opere la scrittura o anche il magistero la scrittura e anche il magistero eccetera eccetera no ecco l'et et che si impara e quindi però il titolo di Mater Ecclesia ecco aggiunge una funzione bellissima e cioè che la Madonna coopera alla edificazione della Chiesa Mater Ecclesia Mater quindi in qualche modo e in che senso questo è vero questa è una altissima teologia cioè anche questo lo spiega benissimo San Luigi Maria Monfort nei suoi scritti no cioè essendo divenuta madre del verbo incarnato dice chi è il verbo incarnato è il capo del corpo che era a Chiesa giusto ecco ma non è che la Madonna può partorire soltanto il capo senza il corpo d'accordo quindi l'essere divenuta madre di Cristo per la Madonna ha significato ipsofatto diventare anche madre di tutti quelli che sono di Cristo con il compito di formarli con il compito di educarli con il compito di custodirli di prendersene cura eccetera eccetera per questo che la Madonna fate attenzione in tutte le apparizioni il termine che predilige è figlio figli non è un modo di dire simbolico anche io che sono un sacerdote ecco sto imparando ad utilizzare un pochino più spesso il termine figlio e figlia lo è d'accordo perché la paternità spirituale di un sacerdote che si attua primo nella predicazione chi ascolta la predicazione santa ecco speriamo di tutti di un sacerdote attraverso questa sollecitazione cambia vita quindi si converte diventa cristiano quindi che cosa in che senso è padre o sacerdote cioè che è in qualche modo causa fattore in senso etimologico quindi fattore quindi come lo che fa produce un cambiamento di vita attraverso la parola poi se qualcuno va a confessarsi dal sacerdote questo cambiamento di vita lo proprio realizza attraverso un sacramento capite o anche quando battezza che fa un sacerdote un nuovo figlio di Dio e un nuovo figlio della Chiesa è fatto dal sacramento del battesimo il battesimo ordinariamente è amministrato da un sacerdote no? così la Madonna ci fa c'è un salmo che simbolicamente dice l'uno e l'altro è nato in essa e l'altissimo la tiene salda parlando di questa mistica città di Dio termine che ha dato poi il titolo di una celebre opera sulla vita della Madonna di Maria da Grida l'uno e l'altro ecco solo che la maternità di Cristo è stata onestasi ecco onestasi il concepimento e onestasi la nascita ecco noi siamo stati tutti quanti come dire concepiti da Maria in uno col concepimento del verbo incarnato ma bella domanda quando è che ci ha partoriti Maria a noi sul Calvario ecco perché il capitolo 12 del libro dell'Apocalisse che gli eretici travisano per andare a negare il parto virginale dice nel cielo apparve un segno grandioso una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle incinta e gridava per le doglie e travagli del parto mica perché ha partorito Gesù soffrendo e torcendosi nei dolori come anche in qualche film ho avuto già modo di dire rappresentato perché è una blasfemia perché è una negazione della verginità della Madonna durante il parto anche se magari chi l'ha fatto non ci ha manco pensato e non ha nessuna intenzione di fare una cosa di questo genere no però per partorire me io vi sto parlando così come voi mi state ascoltando la stessa cosa chiunque stia ascoltando questo 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 video che è stato battezzato mi sta ascoltando perché la Madonna l'ha partorito sotto la croce può starne sicuro 100% quindi noi siamo costati tutto il sangue e tutte le pene di Gesù sì siamo costati anche tutti i dolori della Madonna e tutte le sue lacrime ecco perché è madre della Chiesa non esiste nessuno nella Chiesa Cattolica che non abbia questo debito nei confronti di Maria anche se lei buona com'è non lo esige non lo pretende eccetera buona e umile com'è ma c'è andiamo avanti ci sono una serie di titoli che fanno di nuovo riferimento alla assoluta purezza e illibatezza della Madonna Mater Purissima Mater Castissima Mater Inviolata e Mater Intemerata Intemerata li trattiamo tutti quanti insieme perché sono molto molto affini ma con qualche piccola distinzione ecco Mater Purissima e Mater Castissima ecco ora io molte volte quando ho parlato del Sesto Comandamento ho spiegato la differenza che c'è tra la purezza e la castità perché numero uno la purezza abbraccia tutta la persona c'è la purezza del corpo c'è la purezza dei pensieri c'è la purezza degli sguardi e c'è la purezza della lingua ecco perché si becca in quattro modi contro il Sesto Comandamento quindi non commette ratti impuri si estende a queste possibili azioni dell'uomo dire che la Madonna era purissima vuol dire che in tutte e quattro in queste quattro dimensioni è assolutamente ecco io invito a fare una attenzione perché vabbè gli atti impuri ho fatto tante catechesi dobbiamo tutti essere formati su questo ecco e però ne ho già parlato ampiamente gli sguardi impuri ahimè oggi con tutto il diragare di schifo che c'è in giro di pornografia e di modi in vere conde bisogna fare molta attenzione così come ai pensieri impuri dovrei spendere una parola sulle parole impure le parole impure non sono soltanto gli apprezzamenti su qualcosa su qualche attributo diciamo così di qualcuno ma sono anche quelle che si chiamano tecnicamente il turpiloquio voi immaginate la madonna che si azzarda a dire ecco non termino per rispetto ovviamente all'immacolata santissima no ecco come nostro modello dobbiamo sempre attingere esempio della sua purezza ed anche chiedere a la madonna che ci purifichi in quello di queste quattro modalità in cui siamo deboli la madonna è anche castissima anche se la sua castità è stata vissuta in maniera sui generis ecco però la distinzione è tra purissime nel senso che lei la castità coniugale ecco l'ha vissuta in maniera straordinaria ecco voi sapete ci sono varie forme di castità cioè la castità è un'unica virtù però ha varie forme di attuazione e ha varie modalità per essere vissute c'è la castità del celibe o della nubile c'è la castità del consacrato della consacrata c'è la castità dei fidanzati e c'è la castità anche degli sposati perché anche gli sposati devono essere casti questa è una cosa che non sempre è molto chiara ho fatto tantissime catechesi in merito no? è chiaro che la castità di un consacrato si esercita da un punto di vista fisico nella continenza quindi nell'astenzione da ogni forma di esercizio venereo della sessualità che viene però sublimata uno in un rapporto tenero intenso e profondo d'amore con Gesù e con la Madonna perché sia un uomo che una donna rimangono con un cuore pulsante che non può e non deve diventare un pezzo di ghiaccio quindi l'esclusività di quest'amore totalmente mistico e spirituale è dato nei confronti dell'Altissimo e di Maria anche mentre nei confronti di tutte quante le persone fratelli e sorelle che Dio si manda si ha un amore casto quindi distaccato da un punto di vista fisico ma al tempo stesso caldo quindi capace di vicinanza bella pulita disinteressata che esige certamente un grande controllo ascetico perché il consagrato e la consagrata rimangono figli di Adamo ed Eva ma che però deve essere vissuta è brutto vedere un consagrato o una consagrata che sia completamente senza amore percepibile nei confronti dei fratelli io uso tranquillamente il termine amore perché non voglio adesso rifare riferimenti all'enciclica di Benedetto XVI la Deos Caritas VI che a mio avviso è un grande capolavoro per comprendere bene la differenza tra la carità cristiana che non è la carità se fai dare le mosine poveri e l'amore erotico umano però la carità deve essere in qualche modo visibile è percepibile altrimenti non lo è quindi la castità di un consagrato non è una freddezza indiscriminata nei confronti di tutti ma è una capacità di vicinanza pulita affettuosa ma distaccata nei confronti di tutte le persone che Dio gli manda ecco perché c'è appunto questo aspetto della paternità e della maternità quindi è una vicinanza modellata sul rapporto tra padre e figlio o tra madre e figlia una persona che è celibe ecco quindi che ha scelto di non sposarsi ecco deve vivere nella continenza e deve vivere la sua affettività diciamo nella relazionalità cordiale con tutti facendo però qui in questo caso molta molta attenzione perché non c'è la grazia di stato ecco la stessa cosa vale per una persona che è in attesa di trovare il fidanzato o la fidanzata quindi l'anima cosiddetta gemella i fidanzati vivono la castità l'ho detto in tante catechesi come luogo in cui limitano ecco l'ardore reciproco che hanno ad esprimersi attraverso le effusioni di affetto ecco che non coinvolgano la cioè che non coinvolgano la sfera venerea d'accordo quindi quando partono ecco lo capiscono molto bene insomma sia maschietti che le femminucce certi meccanismi che mettono in moto la concupiscenza i fidanzati capiscono che bisogna mettere punto subito ecco se vogliono vivere secondo Dio certamente noi stiamo parlando di madre castissima quindi di quella che è modello di tutte le forme di castità e poi c'è il discorso delle persone sposate la santa romana chiesa io non mi invento nulla basta leggere la Gaudium et Spes del concilio Vaticano II parla degli sposi che si uniscono in maniera casta questo lo diceva già più undicesimo nel 1931 nella casti con Nubi e umana in queste due parole si sta tutto d'accordo? tutto quindi bisogna fare delle belle riflessioni quindi pensare come si uniscono gli uomini di romano vuol dire in maniera differente da come si uniscono gli animali quindi basta che uno sforza un pochino la mente e subito capisce ecco la castità coniugale richiede poi come sapete questo ha segnato Paolo VI nell'Umane Vite che non si dissoci non si disgiunga l'aspetto unitivo da quello più creativo quindi insieme all'amore reciproco che è esprimibile anche in senso erotico dentro il matrimonio per la forza del sacramento però non va disgiunto dall'apertura all'accoglienza della nuova vita che rimane il fine primario della sessualità quindi salvo che non ci siano gravi motivi e brevi periodi per astenersi nei periodi fecondi quindi usare i cosiddetti metodi naturali gli sposi devono per unirsi castamente devono avere questa apertura alla vita che ovviamente escluda tutte quante le altre forme di unione alternative e qui mi capirete che non sono benedette da Dio perché ripeto con il Magisterio della Chiesa l'attività l'attività sessuale mantiene sempre l'unione tra l'amore e la procreazione quindi gli atti che non sono diciamo così ordinati alla procreazione gli atti venerei non sono leciti né fuori del matrimonio ma nemmeno dentro il matrimonio capite ecco questo per dire un pochino la Madonna è modello di tutte queste forme di castità mater inviolata ecco si capisce il termine attenzione qui non c'è soltanto la violazione come dire che per una donna per un appartenente alla specie umana di sesso femminile comporta come dire la cosiddetta perdita della verginità la deflorazione insomma che inevitabilmente insomma si si consuma quando c'è il compimento del primo atto sessuale la Madonna queste cose non le ha mai fatte però è andata oltre cioè la Madonna è stata inviolata sotto tutti i punti di vista ecco c'è una bellissima antifono mariana che dice che è sola inviolata per manzisti o benigna o regina o maria che è sola inviolata per manzisti cioè non c'è stata violazione nemmeno minima dell'integrità assoluta della persona di maria non l'ha toccata la macchia originaria non l'ha toccata non l'ha sfiorata nemmeno il più piccolissimo peccato e nemmeno la più piccolissima imperfezione è la perfetta maria santissima quindi il demora non ci è riuscito a entrare lì dentro nonostante che ci sia provato per tutta la vita terrena della Madonna ecco perché le anime mariane hanno anche questo lo spiega bene San Luigi Maria Conforto questa serena fiducia che appoggiandosi in Maria anche se magari ne hanno fatte qualcuna magari presto tardi presto tardi i demoni se ne vanno via con la cosa tra le gambe tutti tutti perché in me io purtroppo non sono inviolato sotto vari punti di vista ma la Madonna sì quindi se il devoto della Madonna usa i mezzi di grazia comuni i sacramenti confessione l'ocatistia la preghiera l'attenzione a se lo vedi i comandamenti può stare tranquillo che la Madonna schiaccerà la testa dal demonio e lo terrà lontano dal suo devoto e consacrato Mater Intemerata Intemerata è un termine tico che indica l'integrità assoluta di una persona non è proprio un endiadi rispetto a quello precedente perché l'intemeratezza è anche un titolo un po' onorifico nel senso che esalta la grandezza della statura morale di Maria Santissima che è appunto straordinaria e inimmaginabile non è mortale poi abbiamo Mater Amabilis et Amirabilis ecco Mater Amabilis Amabile la Madonna è sommamente amabile perché è la più bella la più buona la più dolce creatura che esiste in tutto il mondo è veramente lo specchio di Dio guardate che noi Dio è amore Dio è amore certo per percepirlo in questo modo bisogna essere in grazia e beati ecco perché quando uno si allontana da Dio non è che Dio diventa cattivo Dio è sempre uguale è che la lontananza da Dio lo fa percepire in questo modo ma Dio è somma bellezza Dio è somma bontà Dio è somma amabilità ecco perché non c'è niente di più amabile di Dio Santissimo ecco la Madonna che è nello specchio fedele terzissimo è assolutamente amabile e dobbiamo amarla quindi dobbiamo un consiglio vivissimo semplicissimamente senza nessuna paura di esagerare nell'amore con la Madonna non si esagera poi Mater Admirabilis da ammirare no? ammirabile perché l'incanto che procede da Maria Santissima è qualcosa di inimmaginabile noi dobbiamo formarsi in un altissimo concetto poi Mater buoni consigli si erano contente le nostre cari suori questa radio buon consiglio la festa di Maria del buon consiglio del 26 di aprile quindi Mater buoni consigli ecco quindi la Madonna è la sposa dello Spirito Santo lo Spirito Santo è colui che ci dà il discernimento è colui che ci dà soltanto la prudenza soprannaturale ma anche la sapienza ecco ma se l'andiamo a cercare presso la sposa dello Spirito Santo ci arriverà quindi qualche buon consiglio la Madonna lo dà ai suoi devoti e sempre lo darà purché ricorrano a lei con fede Mater Creatoris e Salvatoris ecco questi sono due titoli cristologici per mezzo di lui tutte le cose sono state create noi diciamo riferendoci al verbo di Dio e per noi uomini e per la nostra saprezza di cesare dal cielo quindi la Madonna è vera madre di colui che ha creato l'universo per mezzo del quale tutto l'universo è stato creato ma è anche madre voi capite qui c'è un eco tra l'antica altra disputa perché anche sulla Madonna hanno fatto un sacco di dispute dice ma se l'uomo non avesse peccato il verbo si sarebbe fatto carne oppure no c'era la scuola domenicana che diceva di no e c'era la scuola francescana sulle orme di Tuscoto che diceva di sì io penso che è certamente di sì ecco si sarebbe fatto uomo ugualmente Gesù ma non avrebbe sofferto quindi non sarebbe stato salvatore perché non avrebbe avuto niente da salvare ma sarebbe stato signore e come dire vi viene da dire onorificatore ecco della natura umana che sarebbe stata insegnita della grazia e dell'immensa dignità del verbo che se ne riveste della nostra natura unendola alla sua persona appunto per elevare il creato a questo massima forma di unione possibile con Dio che trova la sua vita appunto nel verbo incarnato solo che la Madonna è Mater Salvatoris perché Gesù è venuto sulla terra col peccato originale compiuto e con una montagna di peccati da salvare ecco quindi essendo madre del salvatore condivide la missione del salvatore e ha cooperato questo lo dice anche il capitolo ottavo della Costituzione Numen Gentium alla salvezza del genere umano in maniera ovviamente subordinata a Cristo e a lei propria quindi prevalentemente con la sua sublime preghiera ecco ma anche con la sua presenza sotto la croce dove come accennavo prima c'ha appunto partoriti ecco in queste doglie e travagli del pianto bene sono abbastanza contento che sono riuscito a fare dei danni riguardanti il titolo Mater ecco la prossima volta cominceremo sicuramente la seconda serie andando poi rapidamente verso la conclusione intanto vi do la mia benedizione vi auguro una santa serata a tutti Ave Maria a tutti Grazie.